Percorreva via Gattoè a Trebaseleghe e questa strada, buia la notte di sabato scorso, il Hab Abu Al-Seud, 18 anni, era in bici quando un'auto guidata da una coetanea di Trebaseleghe lo ha travolto e ucciso. Tanti ragazzi che gli volevano bene, per questo la famiglia musulmana ha consentito che si ritrovino nella chiesa di Levada per ricordarlo e pregare per lui. L'appuntamento è alle 20 di venerdì. Sul suo corpo in queste ore è stata eseguita l'autopsia, un ulteriore passo in avanti nelle indagini che dovranno stabilire la dinamica dell'incidente e se il 18enne, soccorso dalla giovane che è scappata e si è costituita solo la mattina dopo, poteva salvarsi. Intanto in paese è polemica aperta per questa strada pericolosa e priva di illuminazione. Grazie. Grazie.